Lei che posizione ha? Anzitutto dico per quanto riguarda la resta che ci sarebbe dovuta essere, che è una gaffa di voi, dei media. Ah ecco, in generale. Se c'è un mese di tempo per fare la domanda, io immagino che la resta sia l'ultimo giorno. Come sempre, gli ultimi due o tre giorni succede che vanno tutti. Mi pare proprio un'idiozia pensare che il primo giorno ci sia la resta. Però il giornale ha visto scritto caos, fronte a caos. Questa imbecillità che noi cittadini siamo costretti a subire, naturalmente, da parte dei media, tutti i giorni. Comunque volevo dire questo. I dati dei 5 milioni di poveri, l'ho preso da solo 24 ore, credo dal Corriere, è questo. 1.260.000 hanno già un lavoro. Soltanto hanno una paga bassa, per cui prenderanno il complemento a 780. 945.000 sono in cerca di lavoro. Questi sono gli unici in cerca di lavoro. Poi c'è circa un milione inferiori ai 14 anni. Quindi non è un problema di lavoro, è un problema di poveri, minorenni, che hanno diritto a mangiare. Qua c'è ancora un 700.000 che sono al di sopra dei 65 anni o immalidi. Quindi, come si vede, i poveri non sono i disoccupati. Ci sono disoccupati i ricchi, perché hanno famiglie ricche, ci sono occupati i poveri. L'unica cosa che unisce tutti i poveri è che non hanno tempo. Cioè, tutte le cose che diceva la Tinagli richiedono mesi, anni. E la Tinagli, siccome ha mangiato benissimo prima di venire qua, naturalmente non è il problema del tempo. Ma il povero è il problema di mangiare.